e partirei sì ho preparato delle slide più che altro di appoggio perché potrei parlare per 48 ore non è il caso e magari con le slide forse può essere un pochino più più semplice sempre se riesco ad andare davanti eccola qua e va bene di cosa parleremo ci dividiamo l'argomento un po con eugenio io partirò parlando di blockchain perché non si può parlare di nft senza parlare di blockchain e mi scuso già in anticipo perché appunto diceva roberto dei mille partecipanti circa non sappiamo quanti di voi sappiano già molto della blockchain o poco e quindi faremo un excursus abbastanza veloce e degli esempi pratici anche vedremo di blockchain e vedremo naturalmente cosa sono gli nft poi lascerò la parola ad eugenio che entrerà un po più sulla parte marketing di esempi concreti di case study faccio altre due scuse nel senso che sentirete diversi neologismi sicuramente sia da me che da eugenio almeno e molti inglesismi non è che li vogliamo utilizzare per forza anzi cerchiamo di spostarci sull'italiano ma la blockchain è nata all'estero si sta sviluppando tantissimo all'estero ormai da anni gli nft idem e quindi le parole sono quelle trasformarle poi in italiano a volte diventa un po maccheronico a volte un po difficile in più ricordatevi che spesso faremo delle metafore anche quando utilizziamo dei termini utilizzeremo il termine di mintare di minare il coin e il wallet virtuale in verità sono tutte metafore tecnicamente non esiste un wallet non esiste il coin la moneta non esiste sono delle metafore che sono state fatte per cercare di capire meglio quello di cui parliamo dunque vi ho detto che comincieremo parlando della blockchain ma in verità parto dalla fine come non si dovrebbe fare probabilmente ma parto da dall'nft solo una slide per dirvi un po come diceva roberto prima questo è il momento probabilmente in cui nel mondo si è incominciato a ragionare ma allora questi nft forse sono qualcosa e sono qualcosa almeno economicamente c'è un artista pseudonimo vipol ha battuto all'asta una sua opera christie's quindi l'ultima arrivata ha battuto all'opera o quest'opera all'asta e è stata venduta per 69 milioni di dollari nel maggio del 2021 ok per il controllo all'ora di 69 milioni di dollari consideriamo che nel 2021 le transazioni nel mercato dell'arte sono state leggermente superiori alle transazioni che ci sono state nel mercato degli nft quindi gli analisti anche questi dicono cioè comincia a essere un qualcosa di tangibile di importante lo diceva roberto anche prima scusa sto dicendo gli sponsor a parte l'nba quindi il basket americano ormai i collectible cioè le figurine le collezionabili sono tutte fatte su nft ma stanno rendendo nft anche le migliori azioni di gioco ma anche se guardiamo in italia le principali squadre di calcio italiano juve milan inter napoli roma hanno tutte nello sponsor tra gli sponsor aziende che si occupano di nft questo era la fine per dirvi che arriveremo qua e a parlare di perché si sta facendo queste cose qui ma parliamo della blockchain dunque da un po di anni che proviamo sempre a parlare blockchain è complesso perché è complesso spiegarlo in maniera abbastanza semplice proveremo a non andare troppo nei dettagli mi piace partire storicamente ragionare anche storicamente perché questi pazzi o perché questo pazzo è partito facendo o ragionando che bisogno c'era della della blockchain dei bitcoin uno pseudonimo non sappiamo se una persona se un collettivo se un uomo se una donna satoshi nakamoto ormai l'avrete sentito in tante salsa nel 2008 viene fuori con un annuncio dicendo bitcoin a peer to peer electronic cashless system diciamo provando lavoriamo per creare un nuovo paradigma e siamo nel 2008 2008 crisi finanziaria del 2007 2008 sul pubblico al quale parlo penso sarà particolarmente sensibile su questo le man brothers e nella premessa satoshi dice noi sul denaro diamo tanta fiducia ogni volta che abbiamo dei soldi in mano sul conto eccetera presuppone di avere tanta fiducia dietro mi riferisco al fatto che ci fidiamo che una banca centrale non svaluti il denaro no non ci sia inflazione perché 10 euro oggi devono valere 10 euro anche fra un anno due anni e cinque anni quando sappiamo che almeno in moltissimi casi così non è stato non lo so dire sempre ma insomma più o meno così stiamo poi diamo fiducia delle banche diamo fiducia delle banche commerciali e ci fidiamo del fatto che mantengano quei soldi che gli abbiamo affidato a volte non è andata in questo modo le man brothers per esempio ma anche tanti altri casi in più ci stiamo affidando a una banca adesso faccio l'esempio ho lavorato dieci anni in banca non è che ce l'abbia particolarmente con le banche anzi hanno ricoperto e tuttora ricoprono spesso dei ruoli fondamentali per l'economia e però l'esempio più pratico è con le banche gli affidiamo i nostri dati e certi che non verranno violati e non verranno dati a terzi così non è non è stato alcune volte e allora si inventano questa blockchain che in verità un insieme di tecnologie cioè quando è stata inventata non è che hanno inventato una tecnologia hanno inventato hanno messo insieme tutta una serie di tecnologie con delle genialate per me creative e anche di come combinare le tecnologie ed è uscita un po nel 2009 dal 3 gennaio 2009 2009 si nasce la blockchain definizione di blockchain ne trovate n online a me piace particolarmente posso definire un pazzo finlandese è un tecnico della blockchain che si si chiama il gandalf della blockchain che questo dottor chi è finlow bates che dice la definizione semplicissima minima basica che dice poco però già incomincio a dire di che cos'è la blockchain è la blockchain è un registro registro di classe della scuola che trascrive chi ha quanto di qualche cosa chi nome degli alunni quanto il voto in qualcosa una materia ok questa è la definizione super basica da qui mi perdonerete un pochettino provo a entrare un pelino più nel tecnico dunque le caratteristiche della blockchain alcune caratteristiche le dobbiamo prendere forse anche come atto di fede ok però entreremo nel dettaglio uno la blockchain è aperta questo vuol dire che chiunque di noi collegati oggi potrebbe creare entrare dentro la blockchain di bitcoin poi vedremo ci sono diverse tipologie di di blockchain e diventare parte integrante della della blockchain e avere tutti i dati della blockchain e visualizzare tutti i dati della blockchain è decentralizzata perché questi dati questi registri non sono di nuovo l'esempio della banca in un server della banca e magari dalla banca avrà certamente delle copie di backup dei server di copie di backup da qualche parte ma tutti i registri sono replicati in maniera identica su tutti i computer su tutti i nodi della rete a cui fa parte la la blockchain è permanente perché prendiamolo anche questo più o meno come atto di fede ma per degli algoritmi matematici dietro e per come è stata studiata la blockchain è immutabile oggi è immutabile i principali hacker del mondo se riuscissero a hackerarla dal 2009 che su la blockchain non è ancora successo quindi evidentemente fino ad oggi non è possibile ed è completamente tracciato in rete si si legge si pensa è tutto insomma tutto fasullo ci sono tutte truffe dietro in verità è molto 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 trasparente poi dopo bisogna vedere di che blockchain parliamo e di cosa stiamo parlando qual è l'architettura che c'è dietro se voglio creare una blockchain tre sono gli elementi principali una rete peer to peer p2p e vi faccio un esempio insomma per tutti gli over 30 35 napster piuttosto che emule sono delle rete peer to peer cioè vuol dire sono delle reti dove ci sono dei computer e nel caso di blockchain fanno sia da client che da server cioè condividono dei dati noi non nessuno di noi lo faceva perché era illegale ovviamente però con si poteva condividere musica si potevano condividere dei film e noi avevamo sul nostro computer dei film e chiunque poteva accedere e prendersi scaricare quei film lì e noi allo stesso modo andavamo nella rete peer to peer a scaricare film o musica di altri la rete peer to peer è questa il funzionamento della blockchain ha dietro questo quindi come vedete esisteva già da ben prima del 2009 poi c'è un algoritmo di firma digitale cioè per riconoscere chi è il proprietario serve una firma digitale più o meno possiamo fare il parallelismo con le firme digitali che abbiamo diciamo un IBAN e una password banalizzando e provando a semplificare un po dopo di che c'è la parte più complicata che è una funzione di hash criptografica la vediamo la vediamo fra poco e però preme dire che queste tre sono l'architettura principale di una blockchain e andando poi nell'etimologia della blockchain che cos'è è una catena di blocchi ogni blocco è un è un blocco limitato nello spazio e nel tempo all'interno del quale si scrivono delle informazioni delle transazioni o delle informazioni ogni blocco ha un numero massimo di dati